Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale con un nuovo tutorial. Come avete visto nell'anteprima iniziale oggi andremo a realizzare il gilet che ho chiamato pinky. Per quanto riguarda questo gilet la lavorazione che andremo a fare è un'unica lavorazione senza cuciture che poi andremo a dividere il davanti dal dietro. L'unica cucitura che dobbiamo fare è sulla spalla. Per quanto riguarda la taglia nel mio caso è una taglia m e il multiplo che andremo a fare è un multiplo di 10 più 5. Nel mio caso ho messo su 100 catenelle più 5. Però se per voi 100 catenelle sono poche andate avanti sempre di 10 10 10 e aggiungete sempre le 5 catenelle in più. Quello perché per far venire il punto alla fine e all'inizio del lavoro uguale. Quindi lo sto lavorando con l'uncinetto numero 5. Quindi metto su un totale di 105 catenelle. Vado a fare la prima catenella, la seconda catenella, la terza catenella e vado avanti così fino a fare le mie catenelle. Una volta che ho messo su le mie 105 catenelle faccio un'altra catenella aggiuntiva per alzarmi. Adesso iniziamo il lavoro con maglie basse. Dobbiamo finire sempre con maglie basse. Salto una, vado a fianco e faccio la mia prima maglia bassa, vado a fianco e faccio una seconda maglia bassa, affianco una terza maglia bassa, affianco una quarta maglia bassa e affianco una quinta maglia bassa. Quindi abbiamo fatto le prime 5 maglie basse. Adesso dobbiamo fare 5 maglie alte. Filo sull'uncinetto, vado a fianco e faccio la prima maglia alta, affianco ancora una seconda maglia alta, affianco una terza maglia alta, vado a fianco una quarta maglia alta e affianco una quinta maglia alta. La sequenza che dobbiamo fare sono 5 maglie basse e 5 maglie alte. Quindi adesso vado a fianco e devo fare 5 maglie maglie basse. Questa è la prima, una seconda, una terza maglia bassa, una quarta maglia bassa e una quinta maglia bassa. Adesso dobbiamo fare le 5 maglie alte e dobbiamo andare avanti in questo modo fino a terminare il giro. Come ho detto prima abbiamo iniziato con 5 maglie alte e finiremo il giro con le 5 maglie basse e finiremo il giro con le 5 maglie basse. Quindi a fianco adesso iniziamo le maglie alte. Questa è la prima maglia alta e vado avanti fino a 5. Una volta che ho finito le 5 maglie alte devo fare le 5 maglie basse. Ci vediamo alla fine della riga. Una volta che ho finito la mia lavorazione di maglie basse e maglie alte adesso devo girare e dove ho le maglie basse devo fare le maglie alte. Dove ho le maglie alte sopra un giro 5 maglie basse. Quindi giro il lavoro. Inizio con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta. Qui abbiamo le maglie basse quindi dobbiamo fare 5 maglie alte. Faccio la mia prima maglia alta che è sostituita da 3 catenelle. Questa è la prima, vado a fianco e faccio una seconda maglia alta. Vado a fianco una terza maglia alta, a fianco una quarta maglia alta e a fianco una quinta maglia alta. Adesso qui abbiamo le maglie alte e sopra facciamo 5 maglie basse. 1, 2, 3, 4 e 5. Qui abbiamo le maglie basse e sopra facciamo maglie alte, sempre 5 maglie alte. Questa è una seconda maglia alta, una terza maglia alta, una quarta e l'ultima maglia alta. Qui abbiamo le maglie alte e sopra facciamo 5 maglie basse e vado avanti in questo modo fino a terminare la mia riga. Quindi dobbiamo ripetere sempre. Ho finito il mio secondo giro, adesso devo fare il terzo giro e devo ripetere dal primo giro, iniziando con maglie basse. Quindi giro il lavoro. Faccio una catenella, rientro nello stesso punto e faccio la prima maglia bassa, vado a fianco e faccio una seconda maglia bassa, vado a fianco una terza maglia bassa, a fianco una quarta maglia bassa e a fianco una quinta maglia bassa. Adesso a fianco abbiamo le maglie basse e sopra dobbiamo fare 5 maglie alte in ognuna di essa. Quindi vado a fianco e faccio la prima, a fianco ancora una seconda, a fianco una terza, a fianco una quarta e a fianco l'ultima maglia alta. Qui abbiamo le maglie alte e sopra dobbiamo fare maglie basse. Questa è la prima, questa è la seconda, questa è la terza maglia bassa, una quarta maglia bassa e una quinta maglia bassa. A fianco invece abbiamo le maglie basse e sopra dobbiamo fare maglie alte. E andiamo avanti in questo modo fino ad arrivare alla nostra lunghezza del gilet. Io non l'ho fatto molto lungo, però se voi lo volete fare più lungo potete farlo tranquillamente, potete continuare con la lavorazione. Quindi per quanto riguarda il punto dobbiamo ripetere sempre il punto 1 e il punto 2 e dobbiamo andare avanti così fino a raggiungere la nostra lunghezza. Come vedete il punto forma delle piccole onde. Quindi una volta che finite, quindi andate avanti e io vi dico quanti centimetri ho fatto in tutto. Ecco come si presenta il mio lavoro. Guardate il punto come si vede da un effetto molto carino. Per quanto riguarda la lunghezza, dalla vita fino agli scalfi ho fatto un totale di 29 centimetri e poi mi sono fermata. Adesso devo piegare i davanti e devo lavorare i davanti separatamente e anche il dietro. E ho fatto in questo modo. Ho misurato con il metro da questo punto, ho misurato tutto da questo punto, sono andata avanti con il metro fino all'altra parte dove ho l'altra lavorazione e ho trovato la metà del centro dietro. Una volta che ho trovato la metà del centro dietro ho piegato in questo modo. Ho piegato il davanti da una parte e dall'altra. E poi ho lavorato una parte del davanti che vi faccio vedere come ho lavorato. Quindi una volta che ho trovato la metà ho messo il segno. Quindi questo corrisponde alla mia metà e risulta un motivo con le maglie alte che non dobbiamo lavorare. Quindi ho messo il segno sulla seconda maglia alta e ho iniziato a lavorare da maglie basse. Ho lasciato queste. La stessa cosa faccio dall'altra parte. Però dall'altra parte, dalla parte del dietro, le due maglie alte le lavoro normalmente. E adesso vi faccio vedere da questa parte, vi faccio vedere come ho intenzione di fare una parte del gilet. Quindi una volta che ho trovato il segno, come ho detto, ho lasciato una maglia alta e ho iniziato subito dalle maglie basse, dal motivo di cinque maglie basse. Sono andata avanti per quattro giri, ho lavorato normalmente e poi dal quinto giro invece ho fatto delle piccole diminuzioni per far venire questa piccola scollatura a V. E ve lo faccio vedere da quell'altra parte. Una volta che ho trovato la mia metà, a questo punto devo lavorare quattro giri sempre il motivo. Quindi qui ho messo il segno, salto questa maglia alta e vado direttamente dove ho le maglie basse. e inizio il motivo con cinque maglie alte. Quindi faccio tre catenelle, che è la mia prima maglia alta. Uno, due e tre. Vado a fianco e faccio una seconda maglia alta. Vado a fianco e faccio la terza maglia alta. Vado a fianco e faccio una quarta maglia alta e a fianco la quinta maglia alta. Adesso qui ho le maglie alte e sopra faccio maglie basse. E ripeto, andate avanti in questo modo per quattro giri. Quindi dovete finire sempre come abbiamo fatto la lavorazione normalmente. Dal quinto giro vi faccio vedere come iniziare a diminuire la parte del davanti. Ecco qua, come ho detto prima, ho fatto i quattro giri. Uno, due, tre e quattro. E ho messo un segno che da questo punto devo iniziare a diminuire. E continuo le diminuzioni per 17 centimetri. Quindi una volta che ho finito il quarto giro, giro il lavoro. E inizio sempre la lavorazione. Quindi qui ho fatto maglie basse e inizio con tre catenelle. Uno, due e tre. E faccio le maglie alte sulle maglie basse. Devo fare le cinque maglie alte. Questa è la terza, questa è una quarta e una quinta maglia alta. Adesso qui ho le maglie alte e sopra faccio le cinque maglie basse. E vado avanti in questo modo e mi fermo sulle penultime due maglie alte. E vi faccio maglie basse per fare la diminuzione. Quindi andate avanti e poi vi faccio vedere come iniziare a diminuire. Sono arrivata sulle due penultime due maglie basse. Quindi faccio una maglia alta e chiudo una volta sola. Vado a fianco e faccio una seconda maglia alta. E chiudo una volta sola. Adesso chiudo tutto insieme. E ho fatto la prima diminuzione. Giro il lavoro. Faccio una catenella. Adesso devo iniziare le maglie basse. E quindi questa corrisponde come una maglia alta. Quindi vado a fianco e faccio una maglia bassa. Vado a fianco e faccio una seconda maglia bassa. A fianco una terza maglia bassa. E a fianco una quarta maglia bassa. Quindi abbiamo chiuso. Invece di 5 adesso abbiamo 4 maglie basse. Vado a fianco e faccio le maglie alte. E vado avanti fino a terminare il giro. Sono arrivata sulle due penultime maglie alte. E faccio la stessa cosa. Una maglia alta chiusa una volta sola. Vado a fianco. Una maglia alta. E chiudo una volta sola. Adesso tutto insieme. Giro il lavoro. E continuo in questo modo. Sempre una catenella. E rientro dove ho fatto la diminuzione. Faccio una maglia bassa. A fianco una seconda maglia bassa. A fianco una terza maglia bassa. Quindi mi ritrovo con tre maglie basse. E poi vado avanti sempre con il motivo. Invece se vi trovate con le maglie basse. Basta fare in questo modo. Una volta che abbiamo le maglie basse. Basta fare una maglia bassa. Filo sull'uncinetto. Vado a fianco. Un'altra maglia bassa. E chiudo tutte insieme. E quindi abbiamo chiuso le maglie basse. Quindi andate avanti in questo modo. Io ho fatto un totale di 17 centinaia. Invece voi andate avanti fino alla vostra lunghezza. E poi vi faccio vedere come iniziare il dietro. Per quanto riguarda il dietro. Qui ho il segno. Devo saltare la maglia alta che ho a fianco. Vado nella seconda maglia alta. E inizio la lavorazione. A questo punto dobbiamo fare maglie basse. Però mi ritrovo solo con due maglie alte. Quindi faccio due maglie basse. Ho fatto una catenella. Rientro nello stesso punto. E faccio una maglia bassa. Vado a fianco. E faccio una seconda maglia bassa. Adesso qui ho cinque maglie alte. E continuo la lavorazione in questo modo. Con cinque maglie alte. Solo all'inizio e alla fine ci ritroviamo con due maglie. Perché ho spezzato il motivo. Quindi questa è la seconda. Una terza. Una quarta maglia alta. E una quinta maglia alta. Andate avanti. E vi faccio vedere dall'altra parte. Dove ci dobbiamo fermare. Come iniziare. E da questa parte facciamo la stessa cosa. Qui ho il segno. Salto uno. E mi ritrovo poi con due maglie alte. e sopra le due maglie alte faccio su ognuna di essa una maglia bassa. Quindi adesso mi ritrovo con due maglie basse. Giro il lavoro. E inizio con tre catenelle che è la mia prima maglia alta. Uno, due e tre. Vado a fianco e faccio una seconda maglia alta. E adesso invece devo fare cinque maglie basse. E continuo la lavorazione in questo modo. Fino ad arrivare a 17 centimetri. Una volta che arrivo a 17 centimetri. Devo cucire le spalle. E poi vi faccio vedere come ho rifinito. Una volta arrivata a 17 centimetri. Come vi ho detto prima. Dobbiamo cucire le spalle. E una volta cucite le spalle. Io ho fatto questo bordino laterale. Che sono delle quattro maglie alte. Separate da una catenella. E poi una maglia bassa. Ho iniziato dal bordo inferiore. Ho lavorato per tutto il lato. Il laterale. Poi sono andata dalla parte del dietro. Ho lavorato la stessa cosa fino ad arrivare dall'altra parte del davanti. E la stessa cosa ho fatto anche per la manica. Sono sempre quattro maglie alte. separate da una catenella e una maglia bassa. Adesso ve lo faccio vedere dall'altra parte. Con l'uncinetto entro proprio al centro del sottomanica. Questa è la manica. Qui è il sottomanica. Dove ho uno, due, tre, quattro. Sulla terza maglia alta entro e faccio tre catenelle. Adesso dobbiamo fare un totale di quattro maglie alte separate da una catenella. Quindi questa è la mia prima maglia alta. Faccio una catenella. Rientro e faccio una seconda maglia alta, catenella di separazione, una terza maglia alta, catenella e una quarta maglia alta. Qui non faccio la catenella di separazione ma vado direttamente nello spazio disponibile e faccio una maglia bassa. Di nuovo vado dove ho uno spazio disponibile, in questo caso in questa maglia alta e faccio una maglia alta, una catenella, una seconda maglia alta, una catenella, una terza maglia alta, catenella, quarta maglia alta e mi fermo senza fare le catenelle di separazione. Vado dove ho lo spazio disponibile e all'interno faccio una maglia bassa. Di nuovo vado dove ho uno spazio disponibile, in questo caso faccio in questo piccolo spazio e faccio quattro maglie alte. Questa è la prima, una catenella, una seconda maglia alta, una catenella, una terza maglia alta, una catenella e una quarta maglia alta. Vado dove ho lo spazio disponibile, entro e faccio una maglia bassa e vado avanti in questo modo fino a terminare tutto il giro. E faccio la stessa cosa sul davanti e l'altra parte della manica. Detto ciò il mio tutorial è finito e spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un like e continuate a seguirmi. E spero che questo modello vi sia d'ispirazione. Grazie a tutti e ciao! Grazie a tutti!